Si è animata arrivando a toni molto accesi la riunione del Consiglio Comunale di Andria tenutasi martedì. Tre i punti all'ordine del giorno. Il primo prevedeva l'approvazione in consiglio del cambio di destinazione e ristrutturazione dell'ex asilo Lama Paola. Situato sull'Andria Trani non sarà più una scuola materna ma su istanza della diocesi, approvata con i voti della maggioranza e dell'opposizione, ad eccezione dei 5 Stelle che non hanno partecipato al voto, diventerà una residenza sociale. Su questo punto le prime schermaglie con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che, tra l'altro, chiedevano al sindaco di porre la stessa attenzione prestata per l'istanza della diocesi anche ad altri tremi e problematiche della città di Andria. Il PD, attraverso le parole di Marchio Rossi, ha invece chiesto al sindaco maggiore celerità su questo tipo di interventi. Chi vuole investire nella città di Andria non può aspettare tre anni una deliberazione come questa. Il secondo punto all'ordine del giorno riguardava invece l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione dei Comuni Aro 2 Barletta-Andria Trani, ambito di raccolta ottimale. Cinque i membri nominati all'unanimità con voto palese, Saverio Fucci di Forza Italia, Giovanna Bruno di Andria in Movimento e Giuseppe Chieppa di Andria Possibile per la maggioranza, Salvatore Vita Nostra del PD e Doriana Faraone del Movimento 5 Stelle per la minoranza. Ma è sul terzo punto all'ordine del giorno che si è accesa la discussione. Una istanza promossa dal club Forza Silvio di Andria, sottoscritta da oltre mille cittadini andriesi, che chiede di impegnare il sindaco nel monitoraggio del fenomeno immigratorio. La deliberazione finale, emendata dalla maggioranza perché fosse ricevibile, impegna il sindaco alla formazione di un coordinamento con la prefettura e le forze dell'ordine perché siano raccolte informazioni sul flusso dei migranti in città. Un fenomeno cui si è prestata scarsa attenzione secondo il centrodestra, nonostante importanti fatti di cronaca. Proprio oggi è arrivata la conferma della condanna dell'ex imam di Andria, che era anche a capo di una importante cellula terroristica. Alla fine è stata approvata con i soli voti della maggioranza, contrarie alle opposizioni di centrosinistra. Le premesse della deliberazione sono denigratorie, dicono appunto da sinistra, mentre i Cinque Stelle hanno abbandonato l'aula ritenendosi offesi da alcune dichiarazioni dei consiglieri Marmo e del Giudice e del sindaco Giorgino. La consigliera Faraone dei Cinque Stelle aveva accusato l'amministrazione di occuparsi di un fenomeno residuale e su cui comunque l'amministrazione non ha presentato progetti finanziati dallo Stato su cui anche il parlamentare pentastellato D'Ambrosio aveva sollecitato interventi e finalizzati all'integrazione. Nessuna denigrazione, ma solo la necessità di sapere quanti siano, cosa facciano e dove si trovino gli immigrati regolari ed irregolari che nella città di Andria hanno anche occupato abitazioni private, ha detto Marmo, che ha anche accusato la Faraone di non rispondere nel merito della questione, ma di fare del benaltrismo la cifra dei suoi interventi. Sono sempre su un tema libero, mentre dovrebbe rispondere semplicemente alle richieste della deliberazione a ribadito Marmo. Per del giudice sono addirittura interventi offensivi, mentre per il sindaco Giorgino i 5 Stelle vanno fuori tema. Di qui l'uscita dei 5 Stelle dall'aula e l'infuocato post su Facebook del parlamentare 5 Stelle D'Ambrosio, che ha definito la deliberazione il niente mischiato a nulla.